Genova, venerdì 2 ottobre 2009, 49esima edizione Salone Internazionale della Nautica. Siamo in compagnia con la dottoressa Stella, direttore generale di Ucina. Siamo soddisfatti prima di tutto per l'organizzazione, per i nostri espositori, per i nostri associati di poter riconfermare i numeri che vi avevamo comunicato a luglio. Grande interesse, grande attenzione per questo Salone da parte di tutti i nostri espositori, di tutti i nostri associati che ci stanno seguendo da 49 edizioni. Riconfermiamo un Salone al completo, un Salone che vedrà tutte le eccellenze della nostra Nautica, della Nautica Internazionale. E quindi noi siamo soddisfatti per questo grande risultato. Gli espositori hanno tante aspettative da questo Salone e noi vogliamo essere qui con loro.